Per esempio la fine di una manifestazione è un'iniziativa realizzata con il patrocinio e il punto della direzione generale per il cinema, l'inistitore dei beni dell'attività culturali, il consiglio regionale della Lombardia, con il patrocinio della regione Lombardia e del comune di Milano. I partner che ci hanno sostenuto sono Cineci da Luce, il Comandare.it, Anteo, l'Arso del Cinema, l'Orto Pencil, Studio Medicina Estetica Allegra, TVD Domain, i media partner ringraziamo Harkin News, Film Is Now, Cinematografi Film Is Now e ovviamente Tra i Nessi in Festa prodotto dall'Associazione Culturale Seder. Vi lasciamo alla proiezione, alla visione di PCV da portipiedi nella sabbia, grazie a tutti davvero per essere stato con noi e buona serata, buona visione.